questa è la località di Reine abbiamo parcheggiato qui in Reine su un bellissimo vonmobile qui è fotografato dall'altra parte sembra svedese o finlandese sempre il porto di Reine ecco una casa col tetto di terra ok ecco al tetto c'è anche un gabbiano che cova tutto è pieno di baccalà tutto tutto c'è una anatra con quattro piccoli che girano intorno sono pieno di caviani che urlano non c'è nulla Di nuovo un piccolo paese di pescatori, con due o tre case, un piccolo porto protetto molto bene.